Palla per Lunen, riceve lontano dal canestro, fa buona guardia di Avarà su di lui, la penetrazione, la palla recuperata però da Clark che legge bene la situazione, la penetrazione, cerca forse il contatto, non c'è fallo il tap-in però da parte di un compagno in particolare di Guido Rosselli. Abbiamo apprezzato il canestro di Aradori, prova a mischiare le carte in attacco, ora Venezia, Rosselli, su di lui Marco Svili, prova l'uno contro uno, il canestro di pregevolissima fattura da parte di Guido Rosselli che risponde subito per esempio. Tutte le linee di passaggio, ha cambiato nuovamente difesa coach Mazzon, altra difesa a zona su questa rimessa dal fondo, speriamo di trovare un po' di continuità in attacco. Difesa con pressing a tutto campo da parte di Cantù che ovviamente non vuole lasciare nulla di intentato anche con un ottimo margine di vantaggio e ancora Rosselli sempre lì a cercare di ricucire 35 mani. Un giocatore prezioso a tirare dei punti e dei numeri, un giocatore che dà tante esperienze e intelligenza. Certo, il Reggio Emilia ha già 5 falli di squadra, molto più aggressiva della Ray per questo momento in difesa, la Ray ne ha solo uno. 2 su 2 intanto per Rosselli che porta anche in questo primo tempo tanti minuti in campo, questo giocatore troppo prezioso nell'economia del giocatore che stiamo. Insomma lui si è alzato e ha fatto canestro in gran serata il playmaker di Reggio Emilia. Tutt'altro giocatore rispetto alle incertezze Canturine. Si sta ruolando le statistiche, Cinciarini è in campo da 27 minuti. La tripla di Rosselli dall'angolo, Guido Rosselli, 52 e Ray, 47 e Reggiano. Quarto di gioco, qui all'Adriaticarena di Pesaro, in fronte Scavolini, Banca Marche, Pesaro contro Umani. Intanto Crosariol, molto molto efficace anche in questo terzo quarto, magari meno produttivo in attacco ma sicuramente una presenza sotto i tabelloni. E' curioso come il break di Pesaro si sia completato con Cavaliero in panchino, ovvero il migliore in campo per la scalazione. Ritornato nelle mani di Venezia che in questo caso ha difeso bene. Tornata uomo Venezia su pick and roll Fudge deve attaccare molto di più in velocità marconato. Creando il mismatch intanto a proposito del gioco a due tra Rosselli e Young. E non è un caso che abbiano confusione. Buono il primo per Rosselli, primo punto della seta. Buono il secondo, riporta a meno 15 la Rayer. Con Vito Rosselli e Bulleri a gestire il giro del pallone. Non è brillantissima la conclusione della grande di Bulleri ma è bravissimo Rosselli a trovare il buco giusto, dormita di Biella. Sostituisce Crissi Copulos, vittima di un errore in attacco. Biella colta in attacco, ha anche poca intensità in difesa. Ancora due liberi per Venezia che ha a portare il pallone su di lui Robinson. Tra poco sentiremo anche Niccolò di Tiene. Ma intanto Rosselli che va via in velocità. La riscossa da parte proprio del... Attende il taglio di Bulleri, controllato da Johnson. Bowers ancora, prova il gioco 2 con Marco Nato, serve Rosselli. Scorrono i secondi, Rosselli, canestro, individe Rosselli. Contro Johnson, riceve ancora Rosselli, vertice alto. Palla per Bowers. Bulleri arriva al blocco di Marco Nato. Palla per Rosselli da tre punti, il canestro di Rosselli. Altri tre punti per Rosselli che riporta sotto i 5 l'umana. Ora è Rosselli a portare palla, un'occhiata con Bulleri. Alla fine è il consegnato per il premechel della Rejara. Young, sette punti consecutivi nel corso del terzo periodo. Hanno fatto salire di livello la partita del giocatore americano. Qui penetrazione di Rosselli. Ancora una timida protesta nei confronti degli arbitri.